Due gambe, una gamba, non è il gluteo, è il piede, sempre, appoggio, dietro no, avanti no, destra no, sinistra no, centrato, scendo piano, rilassata, prende manovre, bilanciere quello che sia, il gluteo deve essere soltanto il bersaglio, una gamba, metti le mani così, per chi non ha un grosso equilibrio, va qui, alzo la gamba, mi piego, mi fermo, penso al piede a terra e tiro su.